Cerignola-Pescara classifica la mano e uno scontro diretto. La matricola pugliese è la vera rivelazione del Girone C. Alla vigilia della quindicesima giornata accusava un ritardo siderale, meno 15 dal Delfino. Oggi il distacco si è ridotto ad appena 6 lunghezze. Il crollo dei Beczzurri è certificato dai numeri. 13 punti nelle ultime 14 gare. In questo lasso di tempo hanno fatto peggio solo Giuliano, Turris e Andrea. Non solo, squadra piatta, senza ritmo e idee. A Cerignola gara verità anche e soprattutto per Alberto Colombo. In caso di esonero, come anticipato, certo il ritorno di Zeman. Pronto un contratto sino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione. Prima però la sfida di Cerignola. Test di indubbia rilevanza. Colombo consapevole. Il tecnico lombardo non si stupisce. Non è infastidito da voci e indiscrezioni. Anzi, confida di ribaltare la situazione. Negli anni penso tantissimi allenatori presumibilmente a rischio. Poi hanno invertito la rotta con una partita che ha garantito un po' più di fiducia. Io credo che l'anno scorso un signore ha vinto il campionato in Serie A quando un anno prima ha rischiato magari di essere esonerato. Però noi abbiamo l'obbligo di pensare a quello che sarà la partita. Come dovremmo affrontare un avversario ostico che sta bene, che ha voglia di ridurre il gap da noi. Ma sono convinto che questo gruppo abbia delle qualità enormi e la possibilità di riprendersi da ogni partita. Però è chiaro che dobbiamo dare, a partire dal sottoscritto ai giocatori, dei segnali, della volontà di rimettere il discorso su un certo piano. Fuori per squalifica il portiere Pizzari, causa infortunio, Craia, De Sogus, Gozzi e il lungo degente Pellacani. Nessuna sorpresa, solo il sistema di gioco sarà 4-2-3-1 già utilizzato contro Monterosi, Potenza e Andrea. Altresì scontate le scelte. Sommariva tre pali, in difesa Caccellotti, Brosco, Bobben e Crescenzi. Mora, Giabua, tandem di Mediani. Esterni, Merola e delle Monache, tra le linee Raffia alle spalle di Vergani. Si diceva del Cerignola, vera sorpresa del Girone. In casa otto vittorie, tre pareggi, altrettanti capò. Squadra aggressiva, pericolosa quando ribalta l'azione fisica nelle retrovie, ma anche di buona qualità. Un solo assente, lo squalificato Langella. Sistema di gioco a 3-5-2, probabile 11, Saracco tre pali. In difesa Blondet, Capomaggio è il rientrante Ligi. Sulle fasce Russo e Righetti o D'Ausilio. Play, l'esperto bianco. Mezzali, Tascone e Sens Mazza. Davanti al fianco di Malcone, 10 gol in campionato. Il 2000 Aschic, calciatore marocchino. Molto interessante. Se così fosse, l'ex Teramo d'Andrea partirebbe dalla panchina. Il tecnico, Michele Pazienza. Avremo di fronte un avversario di tutto rispetto. Un avversario con un blasone. Un avversario con una classifica importante. Un avversario costruito per fare cose importanti. Ha avuto sicuramente un inizio strepitoso. E ora, nelle ultime partite, sicuramente qualcosa ha perso per strada. Ma ha nelle corde le capacità e le possibilità di ripartire nel momento in cui decide. Perciò dovremo farci trovare assolutamente pronti, preparati. Io credo che il nostro obiettivo deve essere tirare giù ancora una prestazione di quelle che ti lasciano il segno. Di quelle che rimangono poi nella storia.